Il Festival Nazionale dell'Economia Civile è un luogo d'incontro per dare forza e slancio a una grande, democratica e generativa mobilitazione di persone, imprese e associazioni per una nuova economia. Roseto Valfortore presenzierà domenica 26 settembre al Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà a Firenze, presso Palazzo Vecchio, come ambasciatore dell'Economia Civile 2021, in quanto ha saputo ben sfruttare e utilizzare beni comunali per favorire lo sviluppo, il turismo e l'occupazione del territorio. Basti pensare alle piscine, un complesso favoloso realizzato attraverso il recupero di vecchie vasche di accumulo, il B&B, la locanda del Mugnaio, realizzata mediante il recupero di un casolare, la glamping, il forno a paglia, la nascita della cooperativa di comunità Aria e il loro negozio di comunità Aria di Buono, e per finire la nascita della comunità energetica a completare questo percorso di sviluppo.